Allora, benvenuto, benvenuta a questa pratica di iRest Yoga Nidra. Prendi tutti i supporti che ti possono servire per adottare una posizione veramente confortevole. Puoi distenderti nella posizione supina di Shavasana, oppure anche scegliere un'altra posizione. Le mie indicazioni saranno relative alla posizione di Shavasana. E poi lascia che queste immagini scendano nel corpo. Lascia che diventino sensazioni, sensazioni vissute. Osserva cosa succede nel corpo, come il respiro. Allora puoi lasciare andare piano piano le immagini e mantenere queste sensazioni di nutrimento, di benessere, di protezione.